L'ISA è l'acronimo di indici sintetici di affidabilità attraverso i quali il fisco dà un voto alla dichiarazione dei redditi di imprese e partite IVA in generale. In questi giorni stanno partendo lettere ai contribuenti che hanno commesso degli errori nell'applicazione dell'ISA invitando il contribuente a mettersi in regola attraverso anche il ravvedimento operoso.